Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di essere nuovi Lascia l'hashtag Brawl Stars che va sotto i commenti per ricevere un cuoricino E oggi andremo a vedere delle clip che mi sono state inviate ieri tramite l'email ufficiale del canale Di Rosa ragazzi, Rosa vs Carrelli era scritto sulla clip Questo ragazzo in gioco si chiama Mostarda Sono andato a vedere effettivamente che cosa fa, è italiano Non mi ha dato questa clip che sembra abbastanza pulita Ci sono tre partite nella mappa appunto quella con i carrelli utilizzando Rosa Giustamente non essendo ancora uscita lo sta facendo con i bot Quindi prendiamo questo gameplay con le adeguate molle E andiamo a vedere che cosa ha combinato ragazzi Andiamo in gioco direttamente Sono tre partite nella nuova modalità però giustamente con i bot Quindi anche molto semplici Grazie Mostarda per avermi mandato la clip Ecco Mostarda con il personaggio nuovo Giustamente io ho abbassato i suoni Perché erano fatti da cellulare quindi Anche il suono è un po' fastidioso in verità Ok Mostarda se la rischia molto Infatti Mostarda è morto malissimo Ok Si va avanti Allora vediamo un po' che cosa combina Intanto prende botte senza Né arte né parte sto Mostarda Va a sbattere contro i carrelli che è un piacere Però devo dire che la Rosa regge parecchio questi carrelli Anche a colpi secchi senza utilizzare scudi Ok Si sta andando a nascondere non ho ben capito perché forse per evitare il carrello in sé Intanto i bot si fanno uccidere malamente dai carrelli senza manco pensacce Ok se butta molto aggressive questo ragazzo Mostarda Ok Qualche botta diretta Mamma mia se stava per piancarello in faccia Ok allora se sta butta male perché tanto so botte quindi penso non gli facciano niente Ok si è messo lo scudo per proteggersi dalla bomba del dynamic anche se lei riuscirà a evitare tranquillamente Mamma mia si è buttato proprio un mezzo cattivo Ci piace contro la rovescia guardalo Mamma mia quanto è potente Rosa regà È potentissima Si è tuffato sul carrello il dynamic bot bellissimo Ok Si è rimesso lo scudo per salvarsi tranquillamente senza alcun problema E se porta a casa le 10 vabbè comunque ricordiamoci che sta comunque contro i bot La si stava per piancarello in faccia tranquillamente Ok senza alcuna paura essendo bello tankoso come personaggio va dritto verso i suoi avversari E la prima la vince così vabbè contro i bot Le partite che ha fatto erano tre quindi noi ne guardiamo tutte e tre insieme ragazzi Vai così La provate sempre sulla stessa mappa perché penso che voleva vedere quanto fosse resistente Sia contro i bot che comunque sono abbastanza nabbi lo sappiamo che sia contro il carrello Ok sta andando poi senza scudo quindi Senza scudo prende diversi danni vediamo un po' Oh si è messo lo scudo perché sta a 2005 di vita Quindi neanche lo mette subito lui lo mette quando sta al limite di vita Ok io di solito sarei partito subito penso a mettere lo scudo Invece lui aspetta il momento proprio cruciale e pericoloso Wow L'ha utilizzato per ridurre i danni del carrello e l'ha ridotti di tantissimo L'80% di riduzione sul carrello lo aiuta alla grande Anche perché magari l'avversario ti segue sul carrello Guardate Il carrello se l'è trascinato per 4 volte gli avrà tolto forse 1000 di vita E già sta ricaricando la super con un attimo Secondo me gli devono levare un po' di potenziamento alla super Alla nuova rosa Aia che botta si è preso là e vabbè non c'è va la super Beh comunque è molto gestibile e molto resistente come personaggio eh Mi si può dire niente è parecchio OP A parte che stiamo contro i bot quindi non sono manco svegli e non direzionano gli attacchi però Cioè guardalo Boom Scudo Se mette là si prende la botta del carrello La botta del dynamite senza problemi full shield E non c'è nessuno in team che cura Quindi niente male sinceramente Ultima clip ragazzi andiamo a vedere che cosa ci fa vedere sempre Giustamente si era la clip era proprio intitolata in questa maniera Alla fine era rosa contro carrelli quindi penso che sarà più o meno il titolo anche del video Rosa versus carrelli qualcosa del genere Perché mostarda effettivamente ci ha mostrato questo quanto fosse resistente Oh ha fatto il test dei carrelli guardate Cioè ci si è messo apposta per vedere i danni Da 7000 a 5000 e 4 con tutte le botte Invece se va senza scudo si pia 2000 dei danni a botta Che so tanti però comunque 3-4 botte riesci a gestirle se nessuno te colpisce in quel momento Comunque ho notato che non si è soffermato troppo a rimanere nei cespugli per recuperare vita Però appena ci entra guadagna 300 regà Quindi la sua star power è abbastanza grossa Ok Effettivamente poteva entrare nei cespugli e curasse mostarda ma non l'ha fatto Effettivamente poi dall'altra parte gli hanno rotto anche già 2-3 cespugli Bello il bull botte è veramente stupendo quando non ti calcola e fa avanti e indietro Lui si è buttato proprio così full scudo No ma è enorme Rosa è enorme penso che la dovranno regolare La dovranno regolare con tutti i bug che c'ha e tutti i problemi che c'ha E' ancora troppo enorme Cioè si è rimesso un'altra volta la super non vorrei dire eh Se può buttarla dei cattiveri e se li fa tutti e due Anche senza a parte che so botte però Cioè è esagerato mica da poco Quando passa dentro a cespugli o si fulla dei 300 botte è stupendo Oh sta di provare al carello Cioè tutto il suo team di botte è morto Lui invece si è messo là con lo scudo e non gli ha fatto niente giustamente Molto comoda sta cosa effettivamente Ok ringraziamo comunque Mostarda per avermi mandato queste clip Arriviamo a 300 like Condividere il video Schiacciate al canale del cinema Lasciate al hashtag blowstars qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino Ringraziamo ancora Mostarda per avermi mandato queste tre clip molto interessanti Giustamente per correttezza non lo monetizzerò Perché comunque sono contenuti in anteprima Abbiamo visto effettivamente i carrelli Quanto sono inutili contro Rosa quando c'ha lo scudo E ci vediamo direttamente tra due o tre giorni direttamente con Rosa Perché la dovremmo trovare assolutamente Grazie a tutti